Alla mostra nazionale della meccanica agricola di Saluzzo 2022, anche Olimac, una presenza consolidata, che cosa portate qui in fiera? Allora, qui in fiera portiamo Drago GT e Drago 2, che sono le nostre macchine per il mais. Le nostre macchine si differenziano dalle altre, soprattutto per il nostro brevetto, che ormai è da più di 25 anni che ce l'abbiamo, che sono i piatti a regolazione automatica. I piatti a regolazione automatica, quando i piatti incontrano lo stocco, loro si autoregolano con lo stocco che trovano. Questo evita la perdita di chicchi e pannocchia. Un altro brevetto che abbiamo su Drago GT, che è la nostra macchina, l'ultimo modello, abbiamo anche i piatti ammortizzati. Quindi, quando la pannocchia cade sui piatti, questa non rimbalza e rimane in macchina, evitando la perdita di pannocchia. Ecco, l'abbiamo detto, siete una presenza consolidata. Qui a Saluzzo, questa è una vetriera importante per voi? Sì, noi qua siamo anche main sponsor, è una fiera importante sul territorio. Noi esportiamo il 98% delle nostre macchine, però ci teniamo a essere qui perché siamo affezionati ai nostri clienti e comunque la nostra terra che noi amiamo. Anche perché la Olimac, in questa terra che voi amate, ha una storia lunga e consolidata. Sì, l'azienda nasce negli anni 60 con il papà di mia nonna, Emilio Olivero, che aveva creato una macchina per raccogliere in maniera integrale perché non c'era la mungitura della pianta. Poi è entrato mio nonno, è entrata mia nonna, mia mamma, mio zio e adesso ci sono io che sono la terza generazione. Ecco, il fatto di essere così storici, così radicati anche sul territorio e tra la gente vi permette di guardare al futuro con una certa solidità e tranquillità? Assolutamente. Noi siamo sempre in grossa espensione in tutti i mercati internazionali, quindi dall'America all'Australia. Diciamo che noi investiamo tantissimo sulle nostre tecnologie perché la nostra azienda, che è ipertecnologica, è sempre innovata e cerchiamo di avere sempre macchinari di ultima generazione. In più ci teniamo che la nostra principale risorsa sono i nostri lavoratori perché sappiamo che per far funzionare bene le macchine bisogna che ci siano anche persone competenti ad utilizzarle. Chi volesse mettersi in contatto con voi come può fare? Noi siamo sulle pagine Instagram, Facebook, LinkedIn e poi siamo a Margarita in via Cuneo 41.